In questo video vediamo la recensione di Spirulina Fit. Prima di iniziare con il video ti ricordo che trovi il link per acquistare Spirulina Fit sotto al video in descrizione o nel primo commento. Iniziamo! Spirulina è un prodotto 100% naturale, che agisce da subito sul metabolismo dei grassi e dei carboidrati, aiutandoti anche a resistere alla fame nervosa. Spirulina Fit è l'integratore con 4 azioni combinate. In un unico prodotto hai 4 azioni per facilitare il tuo percorso, arrivando ad un traguardo di dimagrimento più facile da seguire. Metabolismo più rapido, per aiutarti a bruciare più calorie anche a riposo, rendendo più semplice il raggiungimento dei tuoi obiettivi. Migliore ciclo dei grassi, gli ingredienti premium di Spirulina Fit aiutano il tuo corpo a gestire al meglio i grassi assunti e bruciarli più facilmente. Miglior metabolismo dei carboidrati, ne riduce l'assimilazione e ne favorisce lo smaltimento, per un minore intake calorico. Mai più fame nervosa, la gimnema contenuta in Spirulina Fit ti permette di ridurre e controllare la fame nervosa. Puoi usare Spirulina Fit in ogni momento della giornata, anche se non sei in casa. È poco ingombrante e facile da usare, ti basta ingoiare le compresse con l'aiuto di un bicchiere d'acqua. È tutto qui il segreto di bellezza e di dimagrimento di questo prodotto naturale. Non avrai bisogno dei consulti di costosi specialisti e non avrai bisogno di modificare la tua dieta. Come fare ad averlo? Clicca il link sotto al video ed ordinalo con pagamento alla consegna. Trovi il link sotto al video in descrizione o nel primo commento. Lo staff di prezzo e recensioni ti ringrazia per la visione.